Alle ragazze piacciono i maschi sicuri di sì. È proprio vero. Ma io sono sicurissi in tanti. In tanti caro. Ma la famiglia... No, mamma. Vediamo che offre la vita oggi. E gli amici sono per sempre. Come i vecchi tempi. Oh, che sbagliato. Hai fatto schifo. American Pie 2. Questa sera alle 21. Su 27. Canale 27. Domenica alle 21. Su 27.